vi presento un libro di mark twain intitolato il principe e il povero di cui ho una copia in edizione cartacea è un mini mammut ed è questo qua si si tratta di questo libretto azzurro che dimostro che è stato stampato nel 2015 tradotto da riccardo raim e pubblicato in originale nel 1881 questo l'ho comprato online qualche tempo fa mi piacerebbe sapere se esistono copie ancora copie della prima edizione in commercio intendo ma la mia curiosità non va tanto in là da informarmi in merito se non a tempo perso ovvero come faccio di solito in merito a un mucchio di altre cose che mi interessano insomma tendo di saper di saperlo per caso in modo più o meno fortuito a seconda della vicenda di cui mi informo ecco semplicemente tenendo un orecchio aperto sulla vicenda oppure affidandomi alle impostazioni che non mi rinchiudano in una filter bubble e dunque evitando che la rete mi presenti solo informazioni che mi interessano infatti le cose che mi interessano come in questo caso sono molte di più di quelle di cui mi informo attivamente così per la maggior parte del tempo me ne sto lì come un ragnetto nella ragnatela ad aspettare che qualche corda vibri in maniera inattesa sapete che in generale io mi interesso di pittura più che di letteratura anche se per me entrambe ecco entrambe sono una si potrebbe chiamare manifestazione della filosofia del modo di pensare e della cultura che esiste in un determinato periodo e entro certe condizioni geografiche politiche conviviali attraverso persone particolarmente sensibili ovvero gli artisti siano essi pittori scrittori musicisti scultori predicatori e altro poi chissà che qualche volta non riesca a capitare in una fiera degli antiquari di libri o in un vero e proprio negozio di libri antichi per chiedere lume ad esperti ci sarà occasione mi auguro vediamo comunque allo scambio di persona che è al centro della storia sono indecisa a dire il vero se insomma non so se sia proprio lo scambio di persona al centro della storia oppure se sarebbe bene ritenere che sia il fatto che i sogni si avverano il vero fulcro della storia infatti il sogno di tom in principio era quello di essere un principe mentre quello di edoardo di provare la vita vera poi le cose precipitano ma comunque per un caso fortuito uno è il doppelganger dell'altro e i due si assomigliano così tanto da un punto di vista fisico che ecco poi succede qualcosa come dire davanti allo specchio cioè davanti agli occhi di noi lettori e è un qualche cosa tale che insomma non vorrei dire di più vi prego so che ora voi mi ascoltate pendete dalle mie labbra ma abbiate pazienza non posso proprio perché poi dopo il solito discorso dello spoiler no ecco finisce che poi non dico che rischi di trovarmi in grossi guai però quasi e dunque e dunque poi vediamo durante la vicenda quello che potremmo chiamare l'incarnazione del detto che l'abito non fa il monaco diciamo così o meglio dico io così la narrazione ha un intreccio arrangiato in modo da lasciare spazio a due linee narrative distinte con un narratore esterno che mette in pausa una poi l'altra fino a riunirle entrambe nel finale è un libro bellissimo ed è un classico caso in cui il narratore è un pilota come dicevo in un altro video ci sono lettori scopritori e lettori accompagnatori poi ci sono i casi in cui c'è da allacciarsi la cintura di sicurezza e tenersi ben saldi perché appunto come in questo caso Mark Twain che ha un pseudonimo di Samuel Langhorne Clemens ecco ci sono casi in cui lo scrittore è un pilota e dunque insomma Mark Twain è uno dei più grandi piloti del secolo XIX e dunque è uno dei più grandi piloti statunitensi del secolo XIX meritatamente anche a distanza di due secoli racconta di personaggi storici di Edoardo VI d'Inghilterra di Enrico VIII e uno Edoardo VI d'Inghilterra è coprotagonista insieme a Tom Canty e Enrico VIII è un re che è tra i più noti tra quelli di Inghilterra o meglio uno dei re che segnò la storia inglese durante il suo periodo di regno tra il 1509 e il 1547 in modo molto significativo ma devo dire che è più famigerato che famoso d'altra parte il processo per alto stradimento e stregoneria che venne fatto alla moglie Anna Bolena è stato molto chiacchierato e anche agli stessi inglesi non è sfuggito che era abbastanza pretestuoso poi considerata la conseguente condanna a morte della poveretta prima moglie, ecco, moglie di Enrico VIII il quale poi ne ebbe delle altre per un totale di sei mogli sempre per questioni dinastiche infatti Enrico VIII era a caccia di un figlio maschio e ecco, insomma non è sfuggito nemmeno a loro che era abbastanza pretestuoso come processo e come condanna a morte comunque Enrico VIII Tudor a sua volta era figlio di Edoardo VII il primo della dinastia Tudor al trono inglese e tra le varie cose che fece Re Enrico egli proclamò l'unione dell'Inghilterra con il Galles lo scioglimento dei monasteri che si erano formati specialmente nel XIII secolo un paio di secoli prima a seguito della riforma che fece Papa Innocenzo III una riforma ecclesiastica molto severa che distanziava nettamente il clero dalla popolazione e dunque c'era un sentimento di come si potrebbe chiamare di riavvicinamento al messaggio neotestamentario da parte del popolo che portò appunto alla formazione degli ordini monastici che appunto vennero sciolti almeno in Inghilterra da Enrico VIII e addirittura lui proclamò uno scisma per il proprio scisma con la Chiesa Cattolica e andò a formare la Chiesa Anglicana ecco dicono che questo scisma venne fatto probabilmente per un fattore di libertà di manovra rispetto al Papa e specialmente rispetto al matrimonio come dicevamo prima infatti Enrico VIII che sarebbe il padre di Edoardo VI protagonista coprotagonista del libro insieme a Tom Kenty ecco Enrico VIII avrebbe avuto bisogno di accedere a quell'istituto giuridico che oggi chiamiamo divorzio e ecco come come si potrebbe dire con il matrimonio religioso cattolico il divorzio non era fatto possibile eppure è interessante il fatto che Enrico ebbe inizialmente una forte reticenza contro un altro riformatore della Chiesa Cattolica ovvero Lutero tanto che nel 1521 Papa Leone X il Papa famoso o meglio anche in questo caso famigerato per le indulgenze ecco diciamo così per la pratica delle indulgenze per la cosiddetta fabbrica di San Pietro ecco insomma Leone X lo aveva proclamato con il titolo di Difensor Fidei cioè difensore della Fede proprio perché aveva osteggiato Lutero il quale nel 1517 affisse alle porte della cattedrale di Gutenberg le tesi della della sua riforma e appunto causò così lo scisma luterano nel 1522 dunque questo è un excursus storico che può essere interessante come contestualizzazione poi in realtà come dicevo in principio è più che altro il figlio di Enrico Edoardo VI che è protagonista della vicenda anche se per una buona metà del libro Enrico VIII compare come reggente e appunto come babbo di Edoardo il quale sembra essere rincitrullito ma perché in realtà c'è stato lo scambio di persona con Tom dunque il libro propriamente è ambientato all'epoca di Enrico VIII ovvero mostra la società all'epoca di Enrico VIII e poi in modo fantasioso le vicende che portarono il cambiamento a tratti radicale che il regno di Edoardo VI promosse a proposito avete dicevo dicevo prima che Enrico VIII venne proclamato Difensor Fidei da Papa Leone X ma avete mai visto il ritratto di Leone X l'hanno restaurato che è poco si trova alla galleria degli Uffizi è il ritratto di Papa Leone X tra il cardinale Giulio De Medici e Luigi De Rossi un olio su tavola di Raffaello del 1518 è davvero molto bello come c'è da aspettarsi Raffaello infatti è considerato normalmente nella storia dell'arte come diciamo il primo pittore che propone nei ritratti una introspezione psicologica in modo rivoluzionario rispetto al secolo precedente ecco rispetto a come si dipingeva normalmente nel secolo precedente insomma ora si rischia che io mi metta a parlare di storia dell'arte a tutto spiano comunque sul sito Inside the Style Case ho trovato un mio articolo dedicato a Raffaello Sanzio che penso potrebbe essere interessante anche per chi non è cultore della materia perché ha un tono divulgativo accessibile e poi trovate anche un video sul sempre all'interno dell'articolo oppure direttamente sul canale YouTube praticamente alla fine del video solo selezionate il rettangolo con su scritto editoriale e cercate tra quella risma di video editoriale su Raffaello Sanzio ma ora torniamo a Tom Kenty e a Edoardo VI ovvero a Il Principe e Il Povero o viceversa quindi l'ambientazione storica mostra la società dell'epoca assegnata da miseria su prusi forte disparità e violenza come ben si capisce dalle vicende che si succedono nella storia immaginaria di Mark Twain penso che questo libro sia un testo capitale perché seppur non contemporaneo alle vicende penso mostri la società all'epoca di Enrico VIII in maniera attendibile come dire permette di ridimensionare gli errori di anacronismo quando ci poniamo a vedere le vicende dell'epoca e perciò permette di capire l'epoca del XVI secolo in cui la società era profondamente legata alla vendetta e alla prepotenza e alla violenza e che crea quella particolare condizione che io definirei del cane che si morde la coda lasciatemi fare un po' il filosofo è la paliziano la violenza chiama violenza l'ignoranza chiama ignoranza e la cattiveria chiama cattiveria poi la cosa si incrocia ovvero l'ignoranza chiama cattiveria e l'ignoranza impoverisce i costumi e l'animo con il risultato di imbarbarire ai noi sempre di più i costumi dei non abbienti e di foderare di prosciutto a fette sempre più spesse gli occhi dei potenti di coloro che loro malgrado nuotando in oro quantomeno non non meritato ma più che altro estorto molto rapidamente perdono sempre di più il contatto con la realtà e il calore dell'amore e della grazia di dio peggiorando ulteriormente la condizione generale come ecco no spesso succede in tutte le epoche e in tutti i paesi a meno che non ci sia un'azione uguale e contraria che ponga una soluzione alternativa al morso della coda ovvero la fiducia il benvolere e la comprensione e la misericordia e la pietà e l'amnistia e la generosità e insomma le condizioni ecco per la pace no come si legge in nota qui su questo libro a quel tempo era prevista la pena di morte per oltre 200 reati orribilmente perpetrata in modi diversi a seconda del tipo della colpa insomma a seconda del genere di reato che era stato fatto la pena di morte era applicata diversamente dal boia inoltre vi erano anche altre punizioni corporali e plateali come la gogna e la frusta sulla schiena che erano all'ordine del giorno per non parlare della totale assenza di assistenza sanitaria educazione scolastica pubblica e così come dire di tutto in tutto il libro apro solo uno spiraglio per farvi per farvi cortesemente vedere un'immagine finale che per me è straziante la sequenza che si potrebbe chiamare della mamma e della figlia mi riferisco a quella che sono imprigionate e poi arse sul rogo perché di religione battista scelgo questa per più di un motivo sia per la delicatezza e la mite rassegnazione con cui le due affrontano l'infausta sorte sia per la comparsa del tutto in attesa di un altro personaggio di un terzo personaggio che chiede di essere bruciato insieme alle due sia infine per il contrasto con l'ingenuità del giovane re prigioniero la penna di Mark Twain è come sempre in grado di mostrare e di far capire alternativamente e contemporaneamente è un libro che ricorda il buon uso delle ante a vetri nelle biblioteche personalmente infatti lo leggerei di nuovo anche appena riposto e perciò buona lettura a tutti e buona navigazione su Inside the Style Case buon Natale ciao ciao